Chi sono io? Non è una domanda che fai a qualcuno. È una domanda che fai a te stesso. Non sai chi sei, è un problema piccolo. Se veramente, se questa domanda ti brucia dentro, allora vieni. Prana Satguru, vengo dal Bengalo occidentale. Mi chiamo Shoropratum Karji. Ti seguo da tre mesi. Era un avvertimento? No, no, perché? Ti seguo da qualche mese e ho guardato i tuoi video. E posso dire letteralmente di essere un tuo fan. Ma ho una domanda. Ho notato che hai detto che qualunque cosa accumuliamo nella nostra vita, come il nostro stipendio, la nostra reputazione, la nostra ricchezza, anche il nostro grasso corporeo, possiamo dire che è mio, ma non è me. Lo dici e l'ho visto ed è estremamente logico. Certo, posso dire che la casa è mia, ma non è me. Posso dire che il corpo è mio, ma non è me. Allora, cos'è me? Allora, cos'è me? Se mi libero di quello che ho guadagnato, di qualsiasi cosa, allora, che cos'è me? Cos'è la mia esistenza? Questo è quello che voglio sapere. Perché lo chiedi a me? Per favore, siediti. Ebbene, che cosa è te? In questo momento, ciò che pensi essere me è solo un groviglio di pensieri, emozioni, idee, pregiudizi, filosofie, ideologie, un miscuglio di molte cose che hai raccolto. Sei un album di ritagli. Questo non suona bene. No, sei un cocktail. Lo promuoviamo un po' di più? Sei un mazzo di fiori. Va bene. Quindi, che cos'è te? Questo è successo all'aeroporto di Cincinnati, nell'Ohio, Stati Uniti. La gente si era messa in fila per fare il check-in al bancone, della compagnia aerea. Un uomo saltò tutta la fila, andò dritto al bancone e mostrò il suo biglietto. La signora al bancone disse «Signore, c'è una fila». Lui rispose «No, no, vado di fretta». Lei disse «Tutti vanno di fretta». «Siete sullo stesso aereo». «Per favore, si metta in fila». Allora lui disse «Sai chi sono io?». Lei lo guardò, prese subito il microfono e disse «C'è un uomo qui che non sa chi è. Qualcuno può aiutarlo?». Quindi, «Chi sono io?». Non è una domanda che fai a qualcuno. È una domanda che fai a te stesso. Rendila sempre più profonda. Se ti fossi alzato, questo è come, ciò che chiedi è come una preghiera mattutina, sai? Come prega la gente. Se vai e impari un mantra, tuo figlio sta facendo… e rispondi anche al telefono nel frattempo. Oggigiorno, anche nel Tempio, il prete risponde al telefono nel frattempo. Tutto così. Questo è successo poco prima di Natale. Una signora in Minnesota stava pregando. Venne sentita dai vicini. Stava pregando «Buon Dio, per favore, questa volta, l'ultima volta quel vecchio sciocco di Babbo Natale è venuto e ha frainteso le mie preghiere». Ciò che voglio è un corpo magro e un grosso conto in banca. L'ultima volta li hai scambiati. Perché dico questo? Per favore, osserva tutte le preghiere sul pianeta. Caro Dio, dammi questo, dammi quello, salvami, proteggimi. Ti sembra qualcosa di divino? O sembra semplice sopravvivenza? Sopravvivenza? Appaltata? Per sopravvivere su questo pianeta ti servono semplicemente quattro arti e alcune cellule cerebrali che funzionano. Quindi adesso, Sadguru, tutto questo va bene, ma voglio sapere chi sono. Tutta questa storia di chi sono io è diventata molto popolare grazie a Ramana Maharishi. Lo sai, hai mai sentito di Ramana Maharishi? Non è un bengalese. Quindi Ramana disse, chi sono io? E si sedette lì. Le persone oggi pensano che non devono fare nulla. Se una volta ogni tanto chiedono a qualcuno, chi sono io, pensano di essere spirituali. Stavo insegnando un programma a Los Angeles. C'era un gruppo di persone, circa 150 persone, tutte persone di spicco, molte di esse della cerchia di Hollywood, e tutta una serie di giovani donne che si assomigliano. Non sono sorelle, hanno lo stesso medico. E poi... Una di loro dice, Sadguru, sto solo insegnando loro una semplice pratica di 21 minuti. Perché? Per farti rivolgere all'interno. Perché stai chiedendo questa domanda all'esterno? Non troverai nulla. Se ti dico che sei un Atman, Parmatman, sciocchezze, dove ti conduci? Solo maggiore vocabolario. Vedi, se ti dico sei un'anima, sei un'entità divina, sei Atman, sei Parmatman, non sei andato da nessuna parte. Hai solo maggiore vocabolario senza senso. È tutto ciò che hai. Quindi ho detto, ti insegniamo un semplice processo, 21 minuti, come rivolgersi all'interno. Ma ci stai dicendo tutti questi 21 minuti, dobbiamo fare tutto questo. Ma Ramana Marishi ha detto, non devi fare niente. Dissi, ehi, ehi, Ramana è arrivato a Los Angeles. Ma Ramana non ha fatto niente. È un fatto. semplicemente sedeva così, con le gambe incrociate. Semplicemente, non facendo niente, assolutamente. I roditori venivano, lo mordevano e mangiavano la sua carne. Si infettava. Le ferite venivano infettate dai vermi. lui sedeva senza fare niente e basta. Se riesci a fare questo tipo di non fare niente, immediatamente c'è una risposta. Va bene. Ma ora in California sono fatti così, se una zanzara li punge, chiamano il 118. 9-1-1. Sì, è così. In questo stato non chiedi. Quindi adesso, se questa è una domanda esistenziale, non è una piccola domanda. Non sai chi sei. È un problema piccolo. È un problema fondamentale. Non è così. E tu ti alzi e ti presenti. Da dove vieni, il Bengala e tutto il resto. E ora stai facendo la domanda. La domanda non è ancora maturata. Se ti fossi alzato e non fossi riuscito a fare la domanda senza che ti venissero le lacrime, avrei risposto a questa domanda in modo completamente diverso. Ma ora è uno scherzo. Quindi sto scherzando con te. Va bene. La domanda c'è. È una buona cosa che la domanda ci sia. Ma la domanda ha bisogno essere affilata per penetrare. Non ha ancora sufficiente intensità da poter penetrare qualcosa. Al momento è una domanda disinvolta. Quindi al momento posso dirti qualcosa, chi sei. Ma non è nella tua esperienza. Se ti dico qualcosa che non fa parte della tua esperienza, cosa puoi fare? Puoi crederci. O puoi non crederci. Se ci credi, non ti ci sei avvicinato. Se non ci credi, non ti ci sei avvicinato. Se mi credi, puoi andare a raccontare una bella storia positiva e raffinata. Se non mi credi, puoi andare a raccontare qualche storia negativa su di me. Ma non ti sei mosso di un centimetro. Non è così. Quindi se veramente questa domanda brucia dentro di te, se stanotte questa domanda ti disturba così tanto che non riesci a dormire, a stare seduto, a stare in piedi, se ti disturba così tanto, allora vieni. Ti darò qualcos'altro. Qualcosa di completamente diverso. Grazie.